Amici miei, dopo eccessi sienori, dubitar non possiamo che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Dolanna. In questa casa per più ammiori fermatevi, un ricorso lo farà a chi si deve e in pochi standi vendicargli prometto. Così vuole dover il tale affetto. Il mio tesoro intanto Andate, andate a consumare Vedete il cilio e il piatto Cercate mia sugar Cercate, cercate, cercate di a sugar 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 Dite il che suoi corti Cercate, venditorio umano Cercate, venditorio umano Cercate, venditorio umano De sole distragge forti Non si ovolio portar Non si ovolio portar Si, non si ovolio portar Il mio tesoro intanto Andate, andate a consolar Non si, non si ovolio portar Il mio tesoro intanto Cercate, venditorio umano Il mio tesoro A presto, a presto. A presto. A presto. A presto.